Buon pomeriggio ragazzi! Allora, sabato 6 aprile 2024, io sono giù dal piedistallo, mentre qualcuno crede di essere sul piedistallo, giustamente essendo alto 1,55, 1,60, poverino, talmente è un anerottolo che deve stare sul piedistallo. Allora, scendi giù Pirletta, scendi giù, ti stai montando troppo la testa tu, nonostante gli iscritti diminuiscono e nonostante le visualizzazioni diminuiscono e nonostante gli abbonati se ne scappano, ma voi continuate a dire che tutto è in aumento, ma che cazzo state a dire? E vi potrei mettere centinaia di persone che vanno fuori dai coglioni, che non vincono una minchia e non recuperano un cazzo. Lasciamo stare, va! Comunque, abbassate la cresta alcuni personaggi, alcuni personaggi, chi si sente colpito purtroppo che prendesse Brucia Cool, perché Brucia Cool fa bene al cool e allo stomaco. È arrivata in tutte le farmacie Brucia Cool per persone invidiose. Brucia Cool, la prima crema rettale indicata per tutti i rosiconi. La pomata per invidiosi trasformerà il vostro ufficio in un luogo più amichevole e collaborativo. E infatti, caso vuole, è andato in onda lo spot. Eh vabbè ragazzi, che ci posso fare io? Brucia Cool, mi raccomando, è perché i brucioli di culo, di stomaco, questa pomatina, credetemi, vi passa tutto. Non rosicati dai ragazzi, su! Allora, ieri sera, giornata di estrazione extra, spaccato in pieno, ambetto secco stracopiato con un numero in più, un numero in meno, oppure un numero uguale, l'altro numero in più. Ma qualcuno le è andata anche di culo, ecco perché dico Brucia Cool. E vabbè, non è sempre così, anche perché un ammo secco lo fate ogni quattro mesi. E quindi, che cazzo stiamo parlando? Tranquilli ragazzi, penultima del mese, anche questa volta, ha sfondato sia al secondo colpo l'ambo secco sulla diametrale, scusate, sulla gemella Cagliari, 34,15. E al quarto colpo, cioè ieri sera, ha spaccato l'ambetto secco a Venezia, 34,38. E' uscito l'ambetto, vabbè, pazienza. Ma è un metodo regalato su YouTube e Instagram per tutti voi e sta andando da Dio. Continuate la penultima del mese, ve la ricordo. Adesso vi metto il foglio, così fate lo screenshot. Altra cosa, io voglio proporvi oggi una singola previsione su Milano, dove ci sono due ambi separati da fare, ambo ambetto, ambo ambetto, e mettere i quattro numeri insieme come quartina. Ok? Quindi fare una bella quartina riunita, perché questi numeri a Milano me li danno molto forti, i miei metodi. Quindi, primo ambo che vi faccio vedere, secondo ambo che vi faccio vedere, fate ambo ambetto, ambo ambetto, e poi la riunite in quartina. Ma cosa voglio dire? Eccovi qua. Questa è la penultima del mese. Chi inizia con questa deve finire con questa. Ok? Il mese scorso ha pagato per ben sette volte il metodo. Quindi è già due volte che paga in quattro colpi questa qua. Occhio! Torino-Venezia, recupero facoltativo nazionale tutte, ecco i quattro ambi che poi alla fine è una quartina. Ok? 34-15, 34-38, 38-13, 38-15. Occhio! Perché questo 38 è molto forte su Torino-Venezia. Quindi, dove c'è il 38 è l'ambo più probabile. Prendete nota, perché poi io questo video, quando vinciamo, ve lo faccio rivedere metodo regalato su YouTube e Instagram e anche sul mio blog Mimmo Nazionale. Questo metodo ha già pagato due volte al secondo colpo sulla gemella di Cagliari, ambo secco, e ieri sera al quarto colpo l'ambetto secco spaccato 34-38. Ok? Vedete? Non vi dico cazzate, eh? Eccolo qua. 34-38, ambetto secco. Ok? Mi raccomando! Ma adesso vi regalo, fate lo screenshot, Milano, primo ambo 9-35, ambo e ambetto. Milano, secondo ambo 17-80, ambo e ambetto, quindi fateli separate e poi la riunite in quartina. Ok? Tra l'altro, va che bello, 17-35-80, sono tutti di figura 8 questi tre numeri, bellissimi. Mi raccomando, ragazzi, fate lo screenshot, previsione bellissima. Per quanto concerne il discorso del 22, ultimo colpo stasera, perché il 22 a Cagliari ha tardato, purtroppo siamo tutti dentro, ma io gli do l'ultimo colpo stasera. Quindi io all'ultimo colpo stasera tengo in gioco il 22, fatelo anche voi, o la va o la spacca. Amen! Purtroppo ci ha fatto tardare. Amen! Complimenti a Massimiliano, cioè l'otto per vincere Pro, e a Salvo Badessa. Ieri sera previsione gratuita. Gratuita! Gratuita che rosicano molte persone. Gratuita! 11 ambata secca a Cagliari, 11-1 ambo secco spaccato, più ambo in quartina. Bravissimi! Ma complimenti anche al mio amico Gianchi! Ho visto delle locandine di previsioni regalate, mi sembra, del tuo Venus modificato, una cosa del genere. Complimenti, ragazzi! Gianchi, papi, zio, complimenti! Un abbraccio a te, Gianchi, amico mio non solo virtuale, ma anche dal vivo. E complimenti, Marilena, perché comunque fa parte ormai del team. Ciao, Marcus! Quindi risaluto Marcus, Gianchi, Salvatore, Salvo Badessa, e Massimiliano. E ragazzi, che dire? Le previsioni ve le ho date già stamattina, il video prima di questa, c'è già i miei aggiornamenti. Il 22, l'ultimo colpo. Diamoglielo l'ultimo colpo, proviamo. Ok? Occhio a questi ambiti che vi ho proposto oggi. Un bacione a voi e a tutti i rosiconi che purtroppo non sanno più dove cazzo aggrapparsi pur di mostrare in video sul piedistallo che cosa fanno. Ma che cazzo fanno? Che molta gente se ne sta andando. Ma gli iscritti rimangono. Sapete perché? Basta comprarli, anche le visualizzazioni, basta comprarli. Io non ho più gli audio, perché sennò sputtanavo queste persone di merda. Un bacione a tutti ragazzi. Ciao! Ciao!